Ben tornati, siamo qua felici di vivere, prendiamo questo bellissimo feluche e finalmente andiamo avanti con la storia senza fare pena come video precedente, ok, no non ditemi che è vero, la missione è sottoterra, quindi c'era davvero l'uscita da davanti negli video scorso, ho bisogno di un ingresso, un ingresso per le gallerie e direi che è qua, perché è sottoterra, non c'è altro modo, quindi andiamo là e entriamo, no no io non uccido nessuno, mantenete pure l'ordine, fate quello che volete, basta che non mi diate fastidio e io invece passo una delle cose belle di Assassin's Creed sono gli insulti no veramente sono gli insulti perché sono insulti di tipo politico che non hanno alcun senso però con me cioè io sono un dannato assassino perché dovrebbe dirmi sporco realista poi non è realista, è tipo idealista però insomma è bellissimo sto posto, perché non l'ho mai visto? e quindi insomma dicevo che sono bellissimi gli insulti perché non hanno benché minimo senso io però devo entrare mi sa che il passaggio è dentro la chiesa quindi fatemi andare dentro la chiesa cucù sta male? no perché le posso dare una medicina ok no per questo tipo di medicina no ah e la spada ovviamente si è conficcata sul terreno è ovvio no aspettate dov'è che era? era qua esatto sto sbagliando strada cosa? vabbè sto lasciando una scia di fantasmi dietro di me ottimo e andiamo di là mamma mia io sono contentissimo di avere finalmente questo nuovo costume perché caspita ok mi sono fatto abbastanza sotto o no? appunto adesso qua è trovare la strada mi sa che non la troverò mai vero? e colpiscilo ok così oddio ci siamo mi sa che ci siamo ho trovato il luogo intruso preparati a morire dobbiamo andarcene da qui porco cosa? non ci provare più ecco ok no tu muori tu tantissimo se tu pensavi di non morire beh hai fatto un brutto calcolo vieni qui non ci pensare neanche bam uno di meno o lo dico io caro mio yeah ok ragazzi e ragazze signore signore e tutti quello che state facendo là c'è il mistero del mondo là c'è finalmente il motivo per cui abbiamo comprato questo DLC là c'è una luce verde e c'era un bug sopra vedete oddio non chiedetemi perché una corona di spine oddio difficoltà tantissima ed è la corona di spine che raccontava il tizio pelato all'inizio del DLC quello che ti fa scoppiare gli occhi certo bianco sul serio sì sì sono emozionato che bravo a rubare la chiave oh oh molte grazie jack nicholson ha detto il comandante digli che mi licenzio oh oh jack nicholson è diventato più cattivo di quanto non fosse oh oh mi sa che c'è un bug dell'acqua leone come mi hai trovato so quello che faccio la francia intera conta su di te piccolo grazie ora vattene da qui sul serio perché devo scoprire cosa c'è dentro il tempio e il capitano deve morire perché sono un assassino yeah il punto è dove la riempio sì c'è questo bug dell'acqua veramente molto particolare ma non è un problema del gioco è un problema del mio computer perché è strano ma in questi giorni mi sta facendo strani bug in vari giochi quindi non chiedetemi come mai plop non devo cadere in acqua no ecco ti sembra che non sia acqua questa lo so che è un bug e non si vede ma lo è mamma mia accendi un po' ok tac 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 ok bravissimi siamo e adesso possiamo arrampicarci qua adesso possiamo arrampicarci qua ottimo bam finalmente ritorniamo a schiacciare pulsanti allora non posso e ok fantastici fantastici enigmi ambientali allora vediamo un po' tutto più blu così si capisce di più non ho capito niente in realtà no non dirmelo uff meno male e allora perché ho fatto tutto sto giro va bene non chiediamoci troppe cose più che altro qua c'è una strada ah ottimo fantastico si passa di qua no ho spento la lanterna e l'ha detto anche lui dove diavolo sono sono appeso qua non portava da nessuna parte vero no allora qua si sale con la lanterna però accesa quindi devo trovare un posto ok qua non si può accendere ah ottimo ok ho capito vai bellissimo quando quando sono così sono davvero bellissimi black mi riaccendo la lanterna risalgo qua sopra vado stavolta di qua e il gioco l'è fatto le gesto un fe si ecco magari c'è qualcosa che non mi quadra aspetta ok calmo non devo andare in acqua e ora posso finalmente salire sul muro qua scherafaggi grazie si ok fantastico 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 e poi devo anche uccidere rose cosa si rose eh ok non posso scendere lì sotto è un po difficile infatti le stelline erano 5 su 5 e sarà ancora più difficile per me perché ho un bug fantastico che non mi mostra io mini se non sulla minimappa dai che lo faccio dai che lo faccio grande ottimo devo fare un altro doppio assassino non mi avete mai visto non mi avete mai visto infatti sta che mi sta arrivando quello a sinistra esatto ne ho scoperto lui aia maledetto pugliese che non sei altro no ok 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 non posso scendere giù però ok il punto è ora come lo faccio al doppio assassino che sono tutti morti ok non sono tutti morti in realtà posso entrare nei teschi no dai che speravo di poter prendere di soffiato quelli che c'erano sopra ok bam ho capito che quest'arma non conviene usarla tenendo premuto attacco cioè facendo il colpo potente ma che conviene usarla così rapidamente allora devo sfruttare un doppio assassino qua assolutamente sennò non riesco più a farlo il punto è come non posso distrarli non posso avvicinarli loro non si girano vabbè ci provo ora uno di noi morirà si ora ti ammazzerò no tu non mi ammazzerai mai oh vedi la prossima volta bam finish him fantastico e non scivolare troppo che devo derubarti cioè depredarti basta grembiule era un cuoco ok accendiamoci la lanterna ah non sono da accendere la lanterna o forse si ma mi stanno guardando questi qua e in pratica ho ucciso tutti tutti meglio così quando ho combattuto con rose non mi da problemi non sono da lanterna queste no oh oh cavolo c'è altra gente cos'è ma sono io quando mi guardo allo specchio il manufatto non sarà mai tu non posso arrampicarmi vero bravo lento la spada ha sete ehi torna indietro non vuoi scappare ah ah non la farai franca ah bastardo predio scese non si scappi 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 c'è una sfida ok attacchi parati due ok siamo a posto vabbè rose non mi sembra molto forte ed è finito rose mi dispiace adoravo jack Nicholson ma lo abbiamo ucciso requisito l'artiglieria che serve a rompere l'assero ruba il manufatto e avrai una ricompensa ben più ricca di quella offerta dal comandante buonaparto dove lo consegno alla signora chi è e qua è rimasta la spada di the rose pace c'è l'anima sua non c'è il suo corpo non posso per darlo ah risolve l'enigma ah cacchio però c'ho il bug che non mi funziona l'occhio dell'acquila quindi non vedo nessun enigma io e questo è il problema ah ma dai è così semplice ah no ecco dove era la lanterna ok due cioè due vabbè due verticali segnetto qualcosa strano i vabbè ormai devo accenderle tutte mi sa e poi rifarlo da capo tipo si spengono a caso dicendo no hai sbagliato idiota esatto allora mi sembra davvero un enigma di quelli stupidi da videogiochi lego questa però vabbè allora due verticale era questo no era sto qua ah no è indifferente ok allora cioè non è tanto la direzione ma o forse c'è un modo di girarli e io non lo so no ho sbagliato era quello là ok porca miseria la piccola mi fa sprecare tempo ok allora sono questo qua quello laggiù quello lì e questo qua ok allora questo qua vai quello laggiù questo qui e finalmente questo qua viva la francia viva la francia così no dove vai no non ancora lo sapete che mi sa che quella maschera adesso la usiamo contro i nemici vero non so perché ma ho questo presentimento come ho anche il presentimento che non salirò mai e che sono un idiota esattamente era qui ok io mi chiedo ancora cosa sia sto coso ma io lo recupero davvero devo diventare anonimo non ci credo cioè io sono lì ah no finché non mi suedo allora non lo prendo che discorsi sono ora amico mio scopriamo perché ti cercano ah no è una lanterna è così spiderman tieni premuto per caricare questa antica reliquia e rilascia per scatenare la potenza di san denis signore signori davvero cosa ci ricorda eh no aspettate voglio usarla bene però aspettate mamma mia quanto è bello è magia gialla questa ve lo dico io è alakazam avate cadavra lingardio leviosa fiamma fiamma di udun wow lanterna magica si è una magia lanterna magica ah arcobaleno bam spietato assassino 2 la vendetta mi hanno preso infatti non era una magia quella che ho detto cioè vi rendete conto che a questo DLC mi sta piacendo di più di tutto il gioco stesso vestito di blu ah caro Arlo le nostre speranze per il futuro della specie umana si possono ridurre a tre punti Napoleone Bonaparte sei in arresto per diserzione e per alto tradimento annullare la disuguaglianza tra le diverse nazioni far progredire l'uguaglianza nella nazione ultima chiamata deve arrivare ad Al Mualim Al Cairo e infine migliorare l'umanità Al Mualim Al Mualim Al Mualim no no non può finire così no non ci credo cioè abbiamo già finito sto DLC no no cioè boom ho trovato la mela dell'Eden dentro una diavolo di lanterna dentro qua che chissà come diavolo ci è arrivata i titoli di coda che impazziscono basta cosa sto facendo no no sono serio cioè wow in che senso Al Mualim cioè non è possibile Al Cairo ma che diavolo come la perché cioè secondo quale ragione lo ha detto eh no 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 non è possibile io adesso esco però sperando che ci sia un video ulteriore ditemi di sì il bello che io avevo preparato le anteprime video no lanterna di San Denis cosa ma a parte che questo posto qua è il posto della sigla quando diceva abbiamo trovato una sottospecie di glitch era esattamente in questa via qua si ve la lanterna come posso cioè posso usarla no mi serve soltanto per andare in giro cioè speravo potessi usare tipo la mela e no non posso perché l'ho data ad Al Mualim ovviamente no Al Mualim Al Mualim non ha senso cioè è qualcosa di incredibile sul serio bene bene speravo durasse un pochino di più cioè è già finito è un piccolo dispiacere personale questo mi è piaciuto le on però scompare Napoleone alla fine ha parlato soltanto di ratti e basta abbiamo ucciso Jack Nicholson cioè è stata una bella avventura però non dico molto di più ma un pelino di più farla durare solo un pelino di più vabbè fatto stare che adesso ho una dannata città intera da esplorare in più con un sacco di missioni extra idiote e ho anche una lanterna ora che bello va bene signore e signori non so che altro dirvi questo è tutto dal mondo questo è tutto da Assassin's Creed Unity Dead Kings finalmente non vedrete più quella sigla finale stranissima con errori di montaggio causa ignota e di sfasamento temporale tra audio e video quindi boh davvero non non so che dirvi un parere l'ho dato mi è piaciuto speravo un po' di più ma vabbè ci tenevo questa serie per fare qualcosa di nuovo con voi che di solito non facevo mai e il tempo di trovare il ritmo giusto per divertirmi è definita quindi insomma non sono neanche riuscito a a godermela tutta questa bella esperienza diversa da solito ma vabbè direi che possiamo concludere in questo modo rispetto alle regole o muori no non volevo dire in questo modo sapete cosa volevo fare? facciamo bella rissa ultima ultimate finale che in realtà non è una rissa ma è tipo io che faccio esplodere tutti col mortaio e non posso neanche usare l'occhio dell'aquila per individuare i nemici per dire ah ecco là ce ne sono tanti ma vabbè aspettate ma qua ce ne sono tanti me lo ricordo io non era francese quello era russo stava parlando in russo si l'ho ucciso io adesso ho ucciso anche te riposa un pace a chi? cioè l'ho superato e si stupisce ah ecco qua un posto pieno di nemici sono qui ok allora attiriamo attiriamo anche altri ok cominciamo ad essere un bel numeretto bene no ok no ok bam non ci provate più e mi sa che morirò non mi prendo la medicina così morirò di sicuro e e finiamo poi con la mia morte il video si ma se non muoio ah incredibile non sto ancora morendo ok basta no cioè vabbè e vi saluto così con questa stranissima vittoria bene bene addio ciao via ciao 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 Grazie a tutti.